Ciao, sono Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e in questa puntata del podcast di crescita personale ti vorrei parlare di una sindrome che ho definito così ieri sera. Ieri sera infatti stavo guardando la televisione e c'era questa pubblicità di un integratore, Supradim. Non vorrei sbagliare, dovrebbe essere proprio un integratore. E in questa pubblicità c'è un tale tutto smunto che non appena beve questo integratore, ecco che viene avvolto da un'aura magica di energia e via, riparte alla grande. Ricordo peraltro una grande pubblicità all'inizio, non so se negli anni 80 o 90, del Gatorade che diceva proprio così, riparti alla grande. Ecco esattamente la stessa cosa, peraltro appunto dopo oltre 30 anni se non 40 anni il concetto resta invariato. E via così, bevi l'integratore e riparti alla grande. Ed è lì che mi è venuta in mente la sindrome degli spinaci. E cosa intendo per sindrome degli spinaci? Intendo proprio questo. intendo proprio il caro vecchio braccio di ferro che mangiava gli spinaci e ripartiva alla grande. Gli venivano dei muscoli d'acciaio soltanto mangiando un tazzone di latta di spinaci e spaccava i musi a tutti i cattivi. E nella prospettiva della crescita personale la sindrome degli spinaci è una sorta di aspettativa passiva che molti di noi hanno. La maggior parte delle persone ha, e tutti noi forse abbiamo avuto almeno una volta nella nostra vita, dove ci aspettiamo che qualcosa di esterno risolva i nostri problemi senza il nostro intervento. Proprio come braccio di ferro che mangiando gli spinaci diventava immediatamente fortissimo e non solo spaccava il muso ai cattivi, ma riusciva a compiere qualunque azione, anche quelle più impossibili. Ed è la stessa cosa che accade in questo tipo di pubblicità, come quella che ho visto ieri sera. Promettono energia istantanea senza alcuno sforzo, un po' come quella celeberrima bibita energetica, la Red Bull, che non appena la bevi ti mette le ali. Preciso che questa puntata non è sponsorizzata né dal Supradim né dalla Red Bull, anzi speriamo non l'ascoltino. Questo tipo di illusioni ti fanno credere che basta assumere queste sostanze ed ecco che queste sostanze stesse hanno poteri magici e noi non dobbiamo fare nient'altro oltre a assumere passivamente queste pozioni magiche per vedere anche noi i nostri miracoli istantaneamente. Queste pubblicità ovviamente sono molto efficaci perché fanno leva sul nostro desiderio di ottenere risultati immediati e senza fatica. Viviamo in una società del resto che spesso, troppo spesso, ci propone soluzioni rapide e facili per ogni problema e questo ci fa dimenticare che i cambiamenti reali richiedono tempo e impegno. E purtroppo questa mentalità non si limita solo alle pubblicità di prodotti energetici ma si estende anche alla crescita personale. Quanti di noi hanno cercato la tecnica miracolosa, l'autoaffermazione perfetta o la frequenza magica che ci trasformi, ci guarisca, ci risolva istantaneamente senza il minimo sforzo da parte nostra. È facile cadere nella trappola di credere che basti un piccolo trucco per ottenere risultati straordinari. E il punto è sempre quello, è che ci aspettiamo che questi elementi esterni, questi agenti esterni facciano il lavoro, tutto il lavoro al posto nostro. Ci convinciamo che basti un supplemento magico, un audio speciale o un'app rivoluzionaria per risolvere i nostri problemi e realizzare i nostri sogni. Senza considerare che invece, e non aggiungo a questa considerazione un ahimè, ma un per fortuna, per fortuna il cambiamento reale richiede ben altro. Attenzione però, non sto dicendo che le tecniche non funzionano, non sto dicendo che gli integratori non funzionano né che gli spinaci non funzionano. Come editore di crescita personale, peraltro specializzato nell'audio, offro un catalogo di migliaia, migliaia di tecniche. Tecniche che uso anch'io. Non sto dicendo perciò che le tecniche non funzionano, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che le tecniche da sole non funzionano. Le tecniche, gli integratori, le visualizzazioni, gli spinaci, le autoaffermazioni, eccetera, tutte queste cose possono essere strumenti veramente potenti, ma la loro efficacia dipende dal nostro coinvolgimento attivo nel processo. Se pensiamo che sia sufficiente utilizzare una tecnica e poi aspettare passivamente che i risultati arrivino, ci stiamo ingannando. Del resto non sto dicendo nulla di nuovo. Tutti i grandi maestri di crescita personale classica insistono su questo punto. Prendiamo come esempio la visualizzazione e facciamo un esempio concreto. Voglio dimagrire con la visualizzazione. Visualizzo me stesso in forma, immagino come mi sento, come apparirò, quando il mio obiettivo sarà realizzato, quando sarò magro, come voglio essere, e sento come cambia la mia vita durante la visualizzazione. Poi apro gli occhi e mi mangio un chilo di gelato. Ogni sera continuo a mangiare un chilo di gelato, non faccio attività fisica, non dimagrisco e quando questo accade ecco che dico, beh, non funziona la visualizzazione. Eh no, non è così facile. Devi metterti in gioco. Cambiare la tua routine sulla base dello schema che hai visualizzato. E sentite, sto già dicendo quello in cui credo fermamente, l'integrazione attraverso la trasformazione e la trasformazione reale attraverso la creazione nella mente. Tecnica più azione. Questo significa veramente trasformare te stesso. Non si tratta perciò di utilizzare tecniche e aspettare che il cambiamento avvenga. Si tratta di integrarle nella tua vita quotidiana, di fare scelte consapevoli che supportino i tuoi obiettivi e di impegnarti costantemente per migliorare. La visualizzazione ti dà una direzione, un obiettivo chiaro. Le autoaffermazioni rinforzano la tua determinazione. Gli integratori, per restare nella nostra metafora, supportano la tua salute. Gli spinaci fanno bene. Ma alla fine sei tu che devi fare il lavoro. Sei tu che devi prendere le decisioni giuste. Sei tu che devi affrontare le sfide. Sei tu che devi perseverare nei momenti difficili. La vera crescita personale avviene quando uniamo queste tecniche a un impegno attivo e consapevole. Solo così possiamo davvero trasformare noi stessi e realizzare i nostri desideri. C'è però un ulteriore punto che vorrei chiarire. Perché io credo fermamente, fermamente, nel fatto che l'80%, se non il 90% della nostra azione di realizzazione, deve essere mentale. La crescita personale ci permette proprio di spostare l'ago magnetico della nostra bussola verso il nord della mente e toglierlo dal sud del corpo. Ma questa mia convinzione rafforza quanto sto dicendo qui. L'azione mentale, infatti, è il lavoro più impegnativo e intenso. È un'azione diretta e consapevole, non passiva o meramente ricettiva. Quando dico che l'azione mentale è cruciale, intendo che dobbiamo impegnarci attivamente nel coltivare il nostro potere interiore, nel coltivare i nostri spinaci. A braccio di ferro gli spinaci danno una forza sovrumana e gli permettono di affrontare qualsiasi sfida. E qui sta il punto, qui sta la sfida. Gli spinaci che ci danno la forza sono già dentro di noi. Non dobbiamo aspettare che qualcosa di esterno ci fornisca il potere di cui abbiamo bisogno. Questo potere risiede già dentro di noi, nelle nostre potenzialità latenti. Ma bisogna coltivarle, attivamente, annaffiarle ogni giorno, come una vera pianta di spinaci. Dobbiamo coltivare attivamente queste risorse interne. È facile cadere nella trappola di aspettare che una soluzione esterna ci salvi. Un integratore, un farmaco, una tecnica miracolosa, una persona speciale, un guru, un profeta. Ma anche questo è un atteggiamento passivo che ci priva del nostro vero potere e aggiungo del nostro vero dovere. Dobbiamo noi stessi prendere in mano il nostro potere, la nostra vita, assumere noi il controllo del nostro percorso di crescita. Questo significa lavorare su se stessi ogni giorno, sviluppare le nostre capacità, rafforzare la nostra mente e certamente anche il corpo, perché mente e corpo sono semplicemente interconnessi. Vi invito a riflettere sul vostro approccio alla crescita personale. State aspettando che qualcosa di esterno faccia il miracolo per voi? O siete pronti a impegnarvi attivamente nel vostro percorso di trasformazione? Cominciate oggi stesso a coltivare i vostri spinaci interni. Al prossimo episodio a a potere Grazie a tutti.